ragazzi buongiorno a tutti oggi ci troviamo di fianco una pianta da frutto è un pruno è quello che abbiamo potato un paio di mesi fa circa siamo a fine fioritura vediamo che i fiori hanno perso i petali e abbiamo non so se avete notato abbiamo questa trappola cromotropica praticamente è un pannello colorato in questo caso colore bianco adesivo perché andiamo a fare una lotta la lotta all'oplocampa o la tentredine la tentredine è un insetto un piccolo insetto che in questa fase durante la fase di fioritura quindi circa una settimana fa va a deporre le uova all'interno del fiore e poi la larva si va a sviluppare all'interno del frutto vi è mai capitato su melo però in particolare che le pere sembrano belle poi a un certo punto cadono tutte dentro hanno un baco oppure le raccogliete che sono belle ma all'interno apparentemente non ci sono buchi esterni oppure c'è un forellino piccolo 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 e all'interno è completamente marcia è colpa dell'oplocampa e adesso vediamo come si fa la lotta quindi la nostra oplocampa cosa fa dopo aver svernato quindi finisce l'inverno iniziano le temperature miti esce l'adulto esce e inizia a cercare il colore bianco perché si riproduce su fiori esclusivamente bianchi quindi va in giro per la campagna cerca il bianco cerca il bianco cerca il bianco appena trova un fiore bianco che quindi è il pero melo o il pruno va e depone la larva se noi giochiamo di anticipo quindi quando le piante non sono ancora fiorite quando iniziano solo a muoversi mettiamo le trappole cromotropiche bianche il primo bianco che trova è questo va e si appiccica ed eccola qua infatti questi piccoli insettini rossi quindi qua diciamo che abbiamo limitato un po la popolazione abbiamo capito che abbiamo questa problematica adesso bisogna fare la lotta alla lotta non si fa con le trappole cromotropiche neanche con le trappole a ferromoni quelle servono per identificare più che altro la presenza del parassita anche le trappole cromotropiche gialle quelle blu che vedremo più avanti servono per capire che c'è il parassita andiamo a ridurre leggermente il parassita e adesso andiamo a combattere in questa fase quindi quando il pruno il melo il pero perdono i petali quindi non sono più appetibili per gli insetti impollinatori come api bombi eccetera andiamo a utilizzare del piretro quindi fiore così la sera piretro sempre negli orari serali andiamo a nebulizzare il del piretro lo andiamo a fare circa ogni facciamo un paio di trattamenti ogni 4 5 giorni grosso modo la sera in questo modo andiamo a distruggere le larvette oppure le uova dell'oplocampa in questo modo andiamo a distruggere quello che ci farà poi il danno successivamente non scrivetemi più ragazzi mi scrivete sempre adesso io ce le mele tutte bacate cosa posso fare adesso niente quando il frutto è forato e la larva comunque è all'interno oppure appena uscita non si può più fare niente il frutto non è più salvabile bisogna farlo adesso appena è finita la fioritura adesso non lo faccio perché ancora giorno quindi aspettiamo un attimino stasera bella passata di piretro poi tra 4 5 giorni la sera un'altra bella passata di piretro basta ragazzi l'oplocampa si combatte così facciamo questo trattamento su pruno pero e melo facile facile per questo video è tutto se avete delle domande scrivetemi nei commenti ci vediamo nel prossimo video un saluto dal contenuto nick